Il gruppo Cinofilo Daumo, delegazione provinciale ENCI, ente nazionale cinofilia italiana, ha promosso la 53esima edizione dell'esposizione canina internazionale di Foggia, presso l'ente fiera di Foggia, che ha ospitato oltre 1000 esemplari in rappresentanza di 250 razze canine riconosciute dall'ENCI e della Federazione Cinologica Internazionale. I cani provenienti da ogni parte del mondo si sono contesi le ambitissime certificazioni di bellezza e di attitudine conferite agli esemplari più meritevoli a livello internazionale, assegnati da una prestigiosa giuria internazionale. Buongiorno, sono Mimmo De Giosa, sono il presidente del Kennel Club di Bari, la delegazione ENCI, e sono qui oggi chiaramente per rendere omaggio all'esposizione internazionale di Foggia. Il dato che posso dare con certezza è che rispetto allo scorso anno, come chiamiamo la immatricolazione di cuccioli, c'è stato un incremento di oltre il 40%, quindi è un ambiente dove la crisi per fortuna non ha avuto effetto. L'indotto è notevole, tenete presente che intorno alla cinofilia girano i commercianti, oltre agli allevatori, i commercianti di mangimistica, i commercianti di guinzaglierie, prodotti per i cani, per i cani di piccola taglia avrete visto i capottini, i collarini con i diamantini, c'è tutto un grosso indotto che possiamo valutare in qualche milione di euro sicuramente. Ed è un indotto che al momento non conosce crisi.